ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca. Si finge avvocato per raggirare un anziano di Sulmona. Si tratta dell'ennesimo caso che si verifica sul territorio. Proprio domenica scorsa i militari della stazione di via San Lustio sono saliti sul pulpito delle chiese cittadine per sensibilizzare la popolazione. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per la copertura assicurativa abbiamo bisogno di 3.500 euro in contanti. Con il solito rituale un malvivente spacciandosi per avvocato ha raggirato nei giorni scorsi un anziano sulmonese. E' l'ennesimo caso che si verifica nel territorio Peligno e che ha spinto domenica scorsa i militari della caserma di via San Lustio, coordinati dal maresciallo Luigi Lucente, a salire sul pulpito delle chiese cittadine per avviare una campagna di sensibilizzazione contro le truffe e distribuire una sorta di vatemecum per difendersi dai truffatori. Con la solita tecnica il finto avvocato ha bloccato l'utenza telefonica della vittima. Un'altra persona si è presentata in seguito a casa dell'uomo prelevando la somma in denaro. Un caso simile si è verificato anche a Prato la Peligna dove una donna ha ceduto i malviventi preziosi in oro. Tocca ai carabinieri ricordare che le forze dell'ordine non chiedono mai soldi ai cittadini. Il consiglio è quello di stare al gioco, chiamare il 112 da un telefono cellulare per permettere ai carabinieri di arrestare in flagranza di reato i truffatori. Pesce senza le etichette di legge che ne certificano la provenienza e la tracciabilità venduto al mercato di Castel di Sangro. Lo hanno trovato gli agenti del comando stazione forestale di Castel di Sangro nel corso di un controllo specifico finalizzato proprio alla prevenzione e repressione della commercializzazione di prodotti ittici privi di etichettatura, di tracciabilità di filiera e di dubbia provenienza. Il bilancio dell'operazione di 1.500 euro di sanzione amministrativa e 60 chilogrammi di pesce pregiato sottoposto a sequestro. Il pesce per un valore di circa 700 euro è risultato sprovvisto di etichette e documenti obbligatori e necessari per verificare il rispetto della normativa sulla tracciabilità del prodotto. I carabinieri della stazione di San Demetrio Nevestini hanno eseguito nella tarda serata di ieri un ordine di carcerazione nei confronti di una ventottenne rom domiciliata presso un campo nomadi di Roma. L'arrestata è stata controllata proprio nel comune Aquilano dove si aggirava con fare sospetto con un'autovettura all'interno della quale vi era anche una minore anch'essa di etnia rom. Le due, la cui presenza è stata segnalata da un residente, si avvicinavano a delle case isolate per poi sottrarvici di fianco e in due circostanze sono ripartite velocemente dopo aver appurato che all'interno dell'abitazione presso cui sostavano erano abitate. I militari che hanno eseguito a distanza i fatti hanno all'ennesima sosta delle due donne quando le stesse sono scese dall'auto provveduto a controllarle. Da un controllo in banca dati in uso alle forze di polizia la giovane è risultata aggravata da due ordini di carcerazione messi dal Tribunale di Roma per numerosissimi precedenti contro il patrimonio e furti in abitazione mentre la minore è risultata incensurata. Espletate le formalità di rito quest'ultima è stata affidata previo accordo con il magistrato presso la procura dei minori ad una casa famiglia dell'Aquilano mentre l'arrestata è stata tradotta presso l'istituto penitenziario Castrogno di Teramo. Smorzare l'allarmismo eccessivo perché il virus non è patogeno. Lo ha detto ieri ad un occhio per tutti il medico Antonino Maiorano Picone parlando dell'influenza suina dopo i due decessi che si sono registrati a Sulmona. Ce ne parla del servizio Andrea D'Aurelio. Smorzare l'eccessivo allarmismo montato sul virus dell'influenza suina che non è altamente patogeno per l'uomo lo ha detto ieri nella rubrica sociale un occhio per tutti Antonino Maiorano Picone medico del reparto di medicina interna dell'ospedale di Sulmona parlando delle origini e delle diffusioni del virus H1N1. I sintomi che l'influenza dà sono superabili con una semplice profilassi fa notare Maiorano sostenendo che coloro che si sono sottoposti al vaccino adinfluenzale o godono di un normale stato di salute non dovrebbero contrarre l'influenza. Bisogna considerare i contatti che un soggetto nutre con i pazienti malati. In caso di contagio se il paziente è immunocompetente non avrà problemi per la guarigione. Se invece è molto debilitato, immunodepresso, in quel caso è bene ricorrere a farmaci antivirali spiega il medico. Il paziente che contrae la febbre suina non deve fare attività di nessun tipo ma sottoporsi a una normale convalescenza e dar modo all'organismo di smaltire l'influenza. Ecco perché sostengo che l'allarmismo non serve, ribadisce Maiorano Picone. Non deve recarsi al pronto soccorso a meno che non ha delle complicanze dovute a trattologia. Il paziente con la febbre suina non deve andare al lavoro, non deve fare attività di nessun tipo, deve fare la convalescenza dei 6-7 giorni senza fare come diceva lei l'eroe. Quali sono i sintomi? I sintomi, essendo una malattia respiratoria, i sintomi principali sono mal di gola, tosse, febbre alta, cefalea, mialgie, dolori articolari principalmente. Poi abbiamo le complicanze dovute a interessamento sia del sistema cardiocircolatorio sia del sistema nervoso. A Sulmona sono due le donne morte per aver contratto il virus H1N1 ma entrambe, stando a quanto sostengono i medici, vivevano in condizioni di disagio. Ieri è arrivato il risponso dell'ASL sul ricovero del marito di una delle due vittime. Per l'uomo non si è trattato di febbre suina. Parliamo ancora di questo argomento nella rubrica Un occhio per tutti alle 14. Infatti andrà in onda la replica della rubrica di Andrea D'Aurelio, dedicata proprio a quest'allarmismo che appunto il medico Antonino Maiorano Picone invita a sborzare. Sanità Sulmona perde anche la scuola di operatore socio-sanitario. E quanto denuncia Mauro Incorvati della segreteria della funzione pubblica Cisla Sulmona Alto Sangro. Continua imperterrita la spoliazione selvaggia nella nostra valle. Ora viene meno anche la scuola di operatore socio-sanitario. Si tratta di un corso bandito dalla regione Abruzzo che coinvolge tutte le ASL regionali. Gli operatori sanitari sul Monessi dovranno ora emigrare nelle sedi di L'Aquile d'Avezzano con ulteriore aggravio economico e ancora più grave, sottraendo tempo al lavoro. E quanto denuncia ancora il sindacalista Mauro Incorvati. Seguirò i lavori per favorire il rientro degli studenti. L'ho affermato il presidente della provincia Antonio De Crescenti, si incontrando la popolazione scolastica del liceo classico Ovidio. Ho assunto l'impegno di seguire personalmente il procedimento di realizzazione dei lavori, oggi in capo al comune di Sulmona, con l'obiettivo di giungere più presto possibile alla pubblicazione della gara d'appalto e consentire il rientro degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale nella sede storica del liceo. Lo ha detto il presidente della provincia dell'Aquile, Antonio De Crescentis, a margine dell'incontro con gli studenti dell'iceo classico Ovidio di Sulmona, nell'ambito della campagna di monitoraggio e ascolto avviata dall'ente per le scuole del territorio. Per l'edificio scolastico di piazza 20 Settembre, la provincia dell'Aquile rendi contato in tempi record 2,1 milioni di euro, sbloccati subito dopo dalla regione Abruzzo. Gli altri 2,1 milioni sono arrivati grazie a una delibera cipe e all'intesa a ufficio di fossa comune di Sulmona. Nel corso dell'incontro, riferisce De Crescentis, i ragazzi insieme al dirigente scolastico Caterina Fantauzzi hanno segnalato l'esigenza di dotare la scuola di arredi nuovi e più funzionali. Il presidente della provincia si è detto soddisfatto dopo un'ora di confronto stimolante. E già attesa per la processione del vener di santo di Sulmona, domani rivive l'antico rito organizzato dall'arci confraternita della Santissima Trinità. Quest'anno rientro compatto per i coristi. Il servizio di presentazione di Andrea D'Aurelio. È ufficiale ripristino del percorso della secolare processione del vener di santo di Sulmona. Ne ha dato notizia stamani in conferenza stampa il rettore dell'arci confraternita della Santissima Trinità, Antonio Di Nino, unitamente al direttivo dell'arci sodalizio. Il corteo processionale da piazza Garibaldi attraverserà piazza Minzoni, dopodiché continuerà il suo cammino per piazza Blebiscito. Altra novità di quest'edizione, spiega il rettore Di Nino, è data dal rientro dei coristi che resteranno uniti e compatti. Il coro si accosterà infatti in piazza 20 Settembre in un apposito spazio e attenderà il passaggio della bara del Cristo morto e della statua della dolorata, poi riprendere il suo cammino per rientrare nella chiesa della Santissima Trinità. Dopo le statue riprenderà il suo passo, o meglio, lo strucio, fino a che non terminerà la processione con la preghiera di Sua Eccellenza. Nei giorni scorsi intanto l'arci sodalizio ha preso atto delle 4.300 firme consegnate dal Comitato Sorto a Difesa della Processione del Venerdì Santo. Nella petizione si chiedeva il ripristino del percorso, l'abolizione del megafono e la regolamentazione dell'attività dei fotografi. Abbiamo preso atto della petizione, anche se l'intesa sul percorso e sul rientro della processione già c'era stato in un incontro con i vescove coristi, spiega Di Nino, che sottolinea come la processione è anche preghiera e il megafono non mancherà. Quindi ci sarà ovviamente anche la preghiera parlata con il megafono. Certamente. La processione prenderà il via domani all'imbrunire intorno alle venti attraversando il centro storico cittadino. È il 189esimo anno consecutivo che il rito viene organizzato dall'arciconfraternita della Santissima Trinità, anticamente veniva gestito dalla congrega dei nobili. Saranno oltre 120 coristi di quest'anno e 60 i lampioni. Possiamo dire che il numero della processione, quindi non c'è stato nessuno che è venuto meno, la processione raggiungerà la sua lunghezza di quasi un chilometro e mezzo, per cui siamo fieri di portarla avanti così come l'abbiamo sempre fatta nel rispetto sia della tradizione. Ma ci tengo a precisare anche evidenziando la preghiera, perché la preghiera è fondamentale. Avranno l'onere e l'onore di portare la Bara del Cristo Morto Carlo Mosconi, Alessandro del Signore, Marco Turchetti e Giovanni Malvestuto, seconda quadriglia della Bara, Arnaldo Polce, Salvatore Venti, Giuseppe Ciotti e Cosimo Acquaro. Traghetteranno la Stato della Dolorata Angelo Trovarelli, Guido Ciotti, Paolo Casciani e Sergio Iovita, seconda quadriglia della Dolorata Tonino Marinucci, Pierfrancesco Carrozza, Daniele Colangelo e Flavio De Filippo. A sorreggere il tronco, la grande croce che richiama la passione e la morte di Cristo saranno Danilo Cinotti, Giuseppe Colangelo e Ettore Paolo Antonio. Quattro, i mazzieri sorteggiati, Antonio Cacace, prima mazza, Domenico Mancini, seconda mazza, Giuseppe Fuggetta, terza mazza e Lucio Silvestri, quinta mazza. E ci attesa anche per la processione della domenica di Pasqua della Madonna che scappa questa sera alle ore 21 sulla nostra emittente andrà in onda uno speciale dedicato alla quadriglia che effettuerà la corsa. Intervisteremo infatti i componenti della quadriglia che domenica mattina effettuerà la corsa in Piazza Garibaldi a Sulmona. Adesso cambiamo argomento, 65 adozioni da gennaio ad oggi, numeri record dal canile comunale Code Felici di Sulmona che con una serie di attività si colloca al centro del territorio. Sentiamo. 65 adozioni da gennaio 2016 ad oggi, più di 8500 amici sulla rete sociale di Facebook, un'ottantina le foto inviate per la rubrica Un cucciolo per amico, sono i numeri del canile comunale Code Felici coordinato dalla responsabile Gabriella Tunno che si pone al centro del territorio con una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'adozione degli amici a quattro zampe. E' proprio la simpatica rubrica ideata dalla Rasusi dell'Associazione Code Felici a spopolare in queste ore e a far avvicinare tantissima gente alla struttura di Noce Mattei. Dopo il grande successo del video del Merry Christmas Pappi in occasione del Natale stiamo lanciando adesso, in occasione della Santa Pasqua, il video di un cucciolo per amico. Grande risposta da parte dei nostri sostenitori, più di 80 foto arrivate e continueremo con la rubrica fino al 30 aprile, infatti sulla nostra pagina ogni mattino un cucciolo dà appunto il buongiorno. Successivamente, le prime due settimane del mese di maggio sarà possibile votare con un like, quindi con un semplice mi piace, sull'album Un cucciolo per amico il proprio peloso preferito. e i gatti e i cani che riceveranno più preferenze saranno premiati, quindi tre per la categoria gatti e tre per la categoria cani, durante la passeggiata a Sei Zampe, che avrà luogo il 15 maggio 2016 presso il nuovo borgo. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell'Associazione Gabriella Tunno, che ricorda anche l'iter da seguire per la cattura dei cani. La AS bisogna rivolgersi al servizio veterinario di Sulmona e loro mandano gli addetti per prendere i cani, vengono portati nel canile sanitario e poi rientreranno nel canile comunale da noi. Fondamentale ruolo svolto dal veterinario Fabio Lofoco, fortemente impegnato sul fronte della prevenzione, della diffusione delle malattie e del benessere dei cani. La diffusione delle malattie, non meno importante, è il controllo, la gestione del scarico dei cani, cioè del flusso degli animali che dal canile sanitario arriva al canile di Sulmona. Ed è importante, oltre a questo, la gestione degli archivi di questi animali e della loro salute. Il noto sondaggista di Ballarò e di altre trasmissioni, Nando Pagnoncelli, è intervenuto ieri a Sulmona per un incontro con gli studenti. Il servizio è di Gaetano Trigilio. Il nostro problema è che non riusciamo a far emergere le positività che esistono nel nostro paese. Lo ha detto Nando Pagnoncelli, noto sondaggista, che ha collaborato con la trasmissione televisiva Ballarò sul Rai 3. Pagnoncelli, sono cambiati gli italiani o è cambiato il contesto sociale che è intorno agli italiani stessi? Sono cambiate entrambe le cose, sono cambiati gli italiani, i loro desideri, i loro bisogni, le loro paure, le loro aspettative. È cambiato il contesto complessivo. È chiaro che è una fase nella quale coesistono aspetti critici che preoccupano fortemente il nostro paese e gli italiani, ma ci sono anche molti aspetti positivi nel nostro paese. Non dimentichiamo che anche se spesso veniamo associati o riteniamo di essere uguali ad altri paesi che vivono difficoltà come la Grecia, noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, dopo la Germania, nel nostro paese operano più di 4 milioni e 400 mila imprese. Nel settore sociale c'è una straordinaria attività, una proliferazione dei mondi associativi, del volontariato, le donazioni, il sostegno a progetti importanti. Forse quello che ci manca è riuscire in qualche modo a fare emergere le positività che caratterizzano il nostro paese e soprattutto fare sistema, cioè sentirci parte di una collettività più ampia, laddove invece tendono a prevalere comprensibilmente, perché la crisi accentua gli atteggiamenti più difensivi, tendono a prevalere, dicevo, le istanze più individuali. Pagnoncelli ha partecipato ad un incontro a Sulmona per il ciclo di conferenze classico moderno, culture e istituzioni a confronto, aperto al pubblico con la presenza massiccia di molti giovani studenti delle classi superiori del Polo Umanistico Istituto Video di Sulmona. Al tavolo della conferenza, oltre a Pagnoncelli, il professor Oreste Dolone, curatore del ciclo delle conferenze, e la professoressa Caterina Fantauzzi, dirigente scolastico. Accendo il dibattito, come sono cambiati gli italiani, la responsabilità dei cittadini nella costituzione della città, obiettivo della conferenza, comprendere sulla base dei sondaggi e dei dati raccolti negli ultimi decenni, come sono cambiati gli italiani, che tipo di società hanno costruito, intorno a quali valori o principi lo hanno fatto. I sondaggi di Pagnoncelli sono serviti ad evidenziare i meccanismi che hanno condotto l'Italia a diventare un sistema statico, poco propenso al cambiamento, con serie difficoltà a fare riforme e progettare in vista delle generazioni più giovani. È stata presentata una fotografia dello stato attuale in cui versa il nostro paese. Tutto questo grazie al punto di vista privilegiato del relatore. Ricordiamo che Nando Pagnoncelli è stato amministratore delegato di Abacus e poi amministratore e presidente dell'Ipsos Italia, noto sondaggista più volte chiamato in causa da Giovanni Floris durante la nota trasmissione Ballarò. Attualmente Pagnoncelli partecipa al talk show di martedì sulla rete televisiva La Sette. Gli studenti sono apparsi molto interessati e partecipi ad un incontro con argomentazioni di grande attualità. È nato un intenso dibattito fra cui gli studenti ed il relatore. Ora questa è una cosa che personalmente mi spaventa molto. Studenti molto attenti e partecipi, abbiamo ascoltato una ragazza che ha fatto tesoro di questa particolare quanto proficua attività didattica. Sono cambiati i valori, è cambiato il punto di riferimento, è nata una sorta di individualità e è andato perso un po' il valore di comunità ed è questo che ha portato appunto l'Italia e i suoi cittadini a un cambiamento. I liceali dell'artistico di Sulmona sfilano con 24 capi ispirati al sommo poeta Ovidio, realizzati anche due jeans sulla Settimana Santa. Vediamo tutto nel servizio curato da Andrea D'Aurelio. Estro colori e fantasia è il modello vincente di Don De Fiuller che nei giorni scorsi sul palco del Cinema Pacifico ha presentato la collezione Metamorfosi, realizzata in collaborazione con i liceali dell'artistico. Grande successo per la sfilata che ha visto i giovani studenti indossare 24 capi che si ispirano ai miti delle metamorfosi del celebre poeta Ovidio, caratterizzati da intalli, decori, applicazioni e disegni. A trionfare è stato il modello Iride. No, non me l'aspettavo. Quando hanno annunciato il vincitore ero stata emozionata. I jeans di questo marchio, già trattati con lavaggi particolari, rappresentano un prodotto made in Italy di altissima qualità e fatto nel rispetto dell'ambiente. Il dottor Mauro Cianti, proprietario dell'azienda, ci ha invitato a partecipare ai processi di realizzazione e progettazione di 24 modelli di jeans che noi studenti abbiamo trasformato attraverso intagli, applicazioni e con particolari tecniche di artigianato. Il jeans sarà inserito nella produzione dell'azienda e gli studenti avranno il 5% di ricavato della vendita. Il format della sfilata, coordinato dalla giornalista Chiara Buccini, è stato coinvolgente e innovativo. Nel corso degli eventi, gli studenti hanno presentato anche quattro jeans fuori concorso, ispirati ai riti della Settimana Santa Sulmonese e donati al Rettore dell'Arciconfraternita della Santissima Trinità Antonio Di Nino e al Commissario della Confraternita di Santa Maria di Loreto, Pietro Ciccarelli. E' proprio il caso di dire che la tradizione abbraccia l'innovazione, un modello che ha conosciuto anche la collaborazione dell'Anfas. Il progetto con il liceo artistico Mazzara è stato fortemente voluto dal CEO di Don De Fühler, Mauro Cianti e da Antonella e Silvia Terimacco, titolari dell'unico vertical store dell'azienda che si trova a Sulmona in via Roma. E' stato proprio Cianti a lanciare l'idea di realizzare un contenitore informatico per continuare la ricerca sul mercato. Oggi con le nuove tecnologie è facilissimo far vedere al mondo quello che magari si fa. E quindi avevo pensato proprio di... Ora, parlando con la preside, ha detto che secondo lei è un'idea spettacolare. Dobbiamo vedere la realizzazione. Sarebbe molto bello creare proprio un contenitore dove andiamo ad inserire una serie di grafiche magari fatte dagli studenti per poi magari provare anche a proporle al mercato via web. Perché no? E' una cosa molto innovativa ma le scuole devono un po' usare. A chiudere la sfilata è stata la preside Catrina Fantauzzi di ritorno da Boston. E adesso per lo sport ci occupiamo di kickboxing perché nello scorso fine settimana ad Eboli in provincia di Salerno si è svolta la Coppa Italia di kickboxing. Hanno partecipato circa mille atleti provenienti da tutta Italia. A questa competizione hanno partecipato anche gli atleti della Dinino Team Sulmona. La Dinino Team ha preso parte alla Coppa Italia di kickboxing con quattro atleti conquistando ben tre medaglie di bronzo. Luigi Marrese, Guido Posillico, Federico Di Benedetto. Ha dato un elogio particolare a Federico Di Benedetto per la bella prestazione contro un atleta di spessore. Federico Di Benedetto ha dominato in secondo round sotto tutti i punti di vista da quelli tecnici a quelli di resistenza. Si legge in una nota del Dinino Team che esprime soddisfazione per questi risultati. E adesso è giunto il momento della nostra rubrica Buon Appetito! Mmm, che profumino! Fai saggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa è questa rubrica qua? Oggi vi presentiamo le sogliole delicate, un semplice piatto di pesce che appartiene alla tradizione culinaria abruzzese. Per prepararle per 4 persone occorrono 8 filetti di sogliola, 1 scalogno, 2 limoni, 100 g di olive nere, un ciuffetto di prezzemolo, un ciuffetto di timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe bianco. Iniziamo ora la preparazione della ricetta. In una padella fate scaldare 4 cucchiai di olio, unite lo scalogno sbucciato e affettato al velo e lasciatelo dorare senza che prenda troppo calore. Unite i filetti di sogliola con il lato della pelle rivolto verso il basso, bagnateli con il succo filtrato di un limone, salateli, pepateli e fateli cuocere per circa 8 minuti. Riducete le olive a filetti, privandole al contempo del nocciolo. Mondate il prezzemolo e il timo, lavateli, scolateli e tritateli finemente. Voltate i filetti, aggiungete le olive e le erbe aromatiche tritate, bagnate con il succo filtrato di mezzo limone, quindi proseguite la cottura per altri 7-8 minuti, regolate poi di sale e pepe. Togliete dal fuoco e servite subito, decorando a piacere con qualche rondella sottile di limone. Puoi rileggere le ricette della rubrica Buon Appetito e concludiamo con la programmazione dei film, la multisala Ejoland di Corfinio, Batman vs Superman, con proiezioni alle 18 e alle 21 e 10, Kung Fu Panda 3 con proiezioni alle 18 e 10, il mio grosso grasso matrimonio greco alle 21 e 10. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie della cortesa attenzione, prossimo appuntamento con dell'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo e arrivederci. Sulla nostra regione condizioni di cielo da nuvoloso accoperto con annuvolamenti più consistenti sul settore orientale, dove saranno possibili residue e deboli precipitazioni, nevosi al di sopra dei 700-900 metri. La tendenza è verso un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampie schiarite a partire dal teramano, in estensione verso le restanti zone, anche se non si escludono residui annuvolamenti lungo le aree costiere. Temperature in ulteriore diminuzione, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, mare molto mosso.